allora grazie davvero lo dico da qui a tutte le elettrici a tutti gli elettori che ci hanno sostenuto che hanno creduto in noi nella nostra scommessa politica evidentemente il risultato è netto inequivocabile siamo di fronte a una vittoria della destra in lombardia di un'altra storia della destra in lombardia netta o telefonando al presidente fontana complimentandomi con lui com'è giusto e doveroso fare in una situazione di questo tipo in un contesto di questo genere è chiaro che aver non aver avuto un leader a livello nazionale non ci ha aiutato questo è ovvio penso che siamo un caso studio a livello internazionale per aver fatto la consultazione sulla leadership interna durante delle elezioni regionali rilevanti come quelle della lombardia e credo anche come quella dell'azio